Su Spettacolo Mania, Alessia Marcuzzi, ciao, ben trovata! Ciao, 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 grazie! Allora, torni in Rai dopo ben 28 anni con un programma tutto tuo, una tua creatura che si chiama Boomerissima, un titolo forse anche un po' ironico, cosa ti piace di più di questa tua creatura? Mi piace che ci siano tanti sapori in questo programma, perché è un varietà, ma è una sfida generazionale, c'è tanta musica, tanto ballo, tanti ospiti che mi vengono a trovare, tante risate, quindi è davvero così, me lo sono cucita addosso, devo dire la verità, ma credo che sia un programma leggero, ma anche che possa piacere a tutti, ecco, quel classico programma che piace sia ai Millennial che ai Boomer. E se cosa ti piace di più e cosa ti piace di meno del mondo Boomer e del mondo Millennial? Vabbè, del mondo Boomer che continuiamo sempre a dire non meglio gli anni nostri, che lo diciamo in continuazione forse troppo, e che mi piace meno dei Millennial, che secondo me dovrebbero avere un pochino più di pazienza. Perché tendono a fare tutte le cose velocemente, invece non bisognerebbe bruciare le tappe. Hai pensato che c'è un pubblico diverso tra la Rai rispetto a quello di Mediaset? E ti aspetti, che cosa ti aspetti? Non mi sono fatta tante domande rispetto a questo, perché davvero io sono andata da Stefano Colletta proprio chiedendogli di poter andare su Rai 2, quindi lo sapevo già che è una scelta magari più difficile a livello di ascolto, però secondo me è una rete giusta per il mio tipo di pubblico, quindi non ho aspettative sugli ascolti, ma spero che sia un bel prodotto, che è la cosa che mi interessa, spero che piaccia. Grazie in bocca al lupo, grazie, ciao Spettacolo Mania, ciao!